Un saluto a tutti i cori e un invito. In settembre ci sarà la terza edizione di Cantate Inni con Arte, questo festival in cui sono invitati tutti i cori parrocchiali a presentare un loro canto, un loro brano, per poter partecipare a questo momento di festa in cui c'è anche una sfida tra cori, per chi sa interpretare meglio le esigenze musicali e liturgiche e poter soprattutto incontrarsi in questo momento bellissimo e scambiarsi le proprie esperienze. E vi invito ad iscrivervi presentando il vostro brano entro il mese di maggio, entro il 31 maggio di quest'anno. E sarà una cosa molto bella. Negli anni scorsi abbiamo avuto diversi cori, grande entusiasmo, grande gioia e soprattutto la bellezza di poter insieme imparare sempre di più a cantare al Signore per dare gloria a Lui e per edificare i nostri fratelli con il nostro canto, coinvolgendoli nella liturgia, facendoli partecipare alla nostra preghiera. Allora mi raccomando, iscrivetevi e ditelo agli altri cori delle vostre parrocchie vicine perché magari la notizia non arriva. Sarebbe bello quest'anno poterci trovare in tantissimi a poter insieme vivere questo momento e a cantare con arte in me al Signore e con amicizia insieme ai nostri fratelli.